Ha terminato il sopralluogo sui campi del circolo tennis Francavilla ad aprile. In Abruzzo torna il grande tennis con un torneo ATP Montepremi 75 mila dollari. Luca Del Federico, direttore del torneo. Sì, direi che ce l'abbiamo fatta. Il sopralluogo è stato positivo. Il supervisor mandato dalla federazione già ci ha dato l'ok. Con grande soddisfazione riportiamo il grande tennis in Abruzzo dopo ben 25 anni. Sarà un evento per il 2017 straordinariamente importante. Sicuri di mantenerlo anche per i prossimi anni. Ci auguriamo di avere i giocatori più forti. Certo non verranno i Nadali e i Federer, ma immediatamente dopo nel ranking mondiale ci auguriamo di averli tutti qui in Abruzzo. Il tennis torna in Abruzzo e io sono onorato e orgoglioso di far parte di questo gruppo di amanti del tennis che con grandi sforzi, devo dire, hanno e stiamo riportando il grande tennis in Abruzzo. Francavilla al Mare rinasce come circolo. Io sono il presidente del circolo tennis Francavilla al Mare Sporting Club e mi auguro che con questo evento possiamo portare un po' di attenzione sia sul tennis che sul tennis in Abruzzo. Dovrà essere un evento, ma una grande festa, una grande festa per i bambini, per i più giovani che verranno qui svolgendo l'attività di raccattapalle a vedere dei grandi giocatori. Per l'Abruzzo una grande novità, ma anche una grande opportunità. Sì, sicuramente. È la prima volta che questo tipo di torneo approda qua in Abruzzo. Infatti richiameremo internazionale tennis d'Abruzzo, città di Francavilla al Mare. Questo è fondamentale perché i nostri tornei, vi voglio ricordare che sono dieci anni che ci occupiamo di questo tipo di eventi, l'abbiamo organizzato ben diciotto in dieci anni in Umbria. Sono soprattutto un grande veicolo promozionale per la città e per la regione. Ecco perché vogliamo coinvolgere tutta l'intera regione Abruzzo a un evento che, ripeto, qui non c'è mai stato. Quanto durerà il torneo? Il torneo durerà dieci giorni, si comincerà il sabato con le qualificazioni. Sì, tornerà il grande tennis, un torneo di rilevanza internazionale. Direi che questo è l'elemento centrale di questo evento sportivo che mi sento di dire, oltre ad essere prestigioso, è anche esclusivo in quanto ci sono pochissime date e pochissimi luoghi che lo ospitano. Noi siamo veramente onorati e contenti che sia Francavilla la città ospite di questo evento.